buonasera 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 a tutto il mondo come state parrucchieri tutto bene questa è una puntata per i giovani parrucchieri e anche non giovani parrucchieri allora oggi invece di parlare delle parti tecniche stilistiche vorrei parlare della comunicazione che adesso più o meno dobbiamo fare tutti quanti per comunicare quello che siamo dove siamo che cosa facciamo perché gli clienti devono scegliere noi proprio perché c'è questa grande opportunità di parlare con voi qui di fronte con le mani che si vedono quello è il mio professore che mi dice fai vedere le mani e io faccio vedere le mani quando gestico oggi volevo giocare insieme a voi per raccontare questa settimana il lavoro al di fuori della parrucchieria che questa settimana abbiamo avuto veramente un buon riscontro una decina di persone nuove con questo video che io vado a farvi vedere e quindi mi sono appassionato e ho cercato di migliorarlo e mi sono anche improvvisato un doppiatore adesso ci sono anche delle donne per fare il doppiaggio ma nei prossimi giorni vedremo di coinvolgere le mie colleghe a aiutarmi in questo contesto io vi vorrei far vedere le due versioni durano un minuto l'uno ok la prima versione l'ho realizzata con avete mai sentito la la voce alle stazioni dei treni si chiama roberto e roberto è una voce elettronica che è abbastanza gradevole però non è umana quindi sul secondo che ho realizzato con qualche immagine corretta di repertorio eccetera ho messo la mia voce la mia voce provato riprovato con il testo eccolo qua questo è il testo la difficoltà sta sempre nella recitazione di dare emozioni di dare pause allora secondo me è interessante però andiamo a scoprirlo insieme ad o allora eccoci qua perfetto qui eh siamo dentro il portale di youtube dove ci sono tre playlist una un corso di estetio un'altra è sette anni a tenerife e poi ce n'è un'altra calorie life dove intervisto personaggi del mondo della moda dello spettacolo eccetera allora qui abbiamo tre ultimi tre video di questa settimana ci abbiamo anche l'inizio del cartone animato che vi avevo raccontato che mi sarei animato ho iniziato eh con questo personaggio me stesso l'avatar di facebook che è molto bello e ve lo consiglio a tutti quanti di eh curarlo proprio perché potete comunicare anche con un cartone animato versione 1 con robot versione 2 io doppiatore andiamo ad ascoltare la prima mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal tuo smartphone il tuo appuntamento personalizziamo tante persone che vogliono esprimere il loro stile la propria personalità e lo stile di vita qualunque sia la loro vocazione elegante fashion freestyle rock mtc parrucchieri uno stile giovane in continua evoluzione e al passo con i tempi che rispecchia le tendenze inglesi e spagnole ispirandoci alle ultime novità di tendenza del momento ogni giorno con i nostri tagli colori e are expenses grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal tuo smartphone il tuo appuntamento e questo fa parte del primo video dove con questa voce elettronica realizzato questa comunicazione per promuovere il salone con queste bellissime immagini che sono state riprese e quindi ho avuto un successo buono dieci persone nuove che hanno seguito questo allora mi sono appassionato e realizzato un altro che ho pubblicato questa mattina siccome non avevo doppiatori femminili ho provato io a doppiare spero di essere riuscito e adesso ritorniamo nuovamente su youtube e andiamo a vedere l'altro video eccolo qua lo riprendiamo e ascoltiamo guardate cosa succede mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento personalizziamo tante persone che vogliono esprimere il loro stile la propria personalità e lo stile di vita qualunque sia la loro vocazione elegante fashion freestyle rock mtc parrucchieri uno stile giovane in continua evoluzione al passo con i tempi che rispecchia le tendenze inglesi e spagnoli ispirandoci alle ultime novità ogni giorno con i nostri tagli colori extension mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal suo telefonino il tuo appuntamento fantastico fantastico funziona funziona molto bene basta mettere la telecamera di fronte al codice e apparirà apparirà il nostro portale dove possiamo darvi delle informazioni a tempo reale dei lavori e ci sono veramente tante tante proposte nuove e uno dei servizi nuovi anche nell'applicazione puoi prenotare online direttamente dal tuo telefonino ma hai varie notizie di novità in questo momento stiamo proponendo gli allisciamenti dei capelli che sono fantastici già molte persone hanno aderito dire è oggi manuela con i nostri collaboratori sono andate a fare della formazione della colorazione e domani avremo un sacco di novità e spero di raccontarlo sempre con questo canale perfetto sono contento oggi pomeriggio è stata una giornata fantastica sono riuscito a fare due video promozionali per farci notare ecco le mani e quindi vi auguro buon pomeriggio a tutti quanti e ci vediamo per le prossime con un sacco di novità perché ci stiamo preparando il 27 starò al senato non si sa se riuscirò a girare qualche cosa ma io ma spero di fare un buon servizio e poi sto preparando delle interviste ma sarà una sorpresa mi raccomando piggiate la campanella sul canale così vi avverte quando posterò dei video nuovi ma aiutatemi iscrivetevi seguite condividete e qua sotto alla campanella mi raccomando ciao ci vediamo alla mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento